allora ragazzi finito il capitolo l'atto 1 1 iniziamo l'atto 2 1 si intitola portami all'inferno qui garzia entra per la prima volta all'inferno e johnson gli spiega un po come sono le cose lì dato che lui ci viveva ci ha sempre vissuto arrivano in moto con la moto johnson una moto che potete trovare in tutti i negozi autorizzati shadow of the down head questo vecchio quartiere abitava lì certo non si ricorda tantissimo johnson perché è passato tanto tempo da quando se n'è andato vediamo cosa troveranno forte la sua giacca viola di pelle allora avanziamo la porta che separa il mondo dei vivi dall'inferno e qua già ci sono alcuni esponenti che non vogliono vogliono fare un salutino a garzia un saluti benvenuto scusate se sentite rumori dalla dall'esterno di qua ma la mia vicina al solito ogni tot di tempo deve fare lavori deve spendere soldi e queste le conseguenze sentite pure i dialoghi sono fatti forti poi con garzia questo messicano tipo accento questo demone è un amico di johnson è willy e un occhio solo che quando uno si ci avvicina si spaventa e ne molla una mollandone una permette il salvataggio della partita per dicersi con x qua nell'underworld c'è una distinzione tra luce e ombra spesso nell'ombra garzia non potrà resistere perciò dovrà usare il colpo di luce per rischiarare se devo colpire l'oscurità un po' sono un po' troppo lontano così e così ci farà la luce ora che succede il solito carro che scende e questo è proprio il benvenuto il primo benvenuto che fanno i demoni perciò possiamo cambiare l'arma prima abbiamo la pistola ora il fissilazzo con un colpo ma ce ne sono un sacco poi dipende da dove si spara e dove li si colpisce per esempio nei piedi e loro cadono a terra se riesca a colpire sempre se il colpo non li distrugge e allora questi diamanti bianchi serviranno per acquistare alcune cose vedete che la la fiaccola è rossa perchè è equipaggiata la pistola se io equipaggio in questo caso si chiama monocursionaire diventerà verde ma ci saranno anche se vedete almeno un altro slot sopra per usare un'altra arma ma ci sono dei delle fasi in cui si devono premere pulsanti poi ci sono queste capre e johnson spiegherà tutto in pratica queste capre servono per incanellare la luce che altrimenti non ci sarà poi ci sono quelli nuovi arrivati nel mondo dei demoni si trasformano in porte tipo neonati che però hanno bisogno di qualcosa questa è paola per scattare r1 qua è ragazzi paola che l'abbia già trovata una fragola una fragola una fragola è forte johnson andiamo e c'era se vi ricordate quella porta che ha bisogno delle fragole io gliela do e con il tributo dell'oggetto ci permette di entrare poi ci sono i drink che in questo caso non fanno male anzi fanno bene fanno ristabilire l'energia ci sono tanti tipi tanti tipi mantenendo premuto il triangolo ci useranno ora si può passare di là io scendo queste campane questa è l'oscurità che stricchia la vita ora servono il come si chiama la capra facendo così l'oscurità sparisce si e adesso si può passare guarda dissi una cosa sui cavalli mi sembra ah si c'è di noi ora è tutto al buio tanto prendo la salvo ora vi faccio un bel regalino tenete e tutti scappano perchè non resistono alla luce di nuovo stavolta non c'è una capra ma qui 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 sotto la capra dentro vedete la capra che rumina e saliamo qua c'è ancora la drink e munizioni c'è l'attacco di uffa senti qui do il colpo di luce che dando il colpo di luce tipo lì si stordisce e si può colpire poi se sono ricoperti invece dall'oscurità o con il colpo di luce o con il la torcia caricata si può o lì si può colpire ecco paola che in tutto il gioco ci si farà inseguire qui è proprio in un corridoio di oscurità troveranno anche a imbarire cose del genere troveranno anche a imbarire cose del genere questa volta se puoi chiamarlo andiamo al monocursore ora ci sono questi qua con le maschere che per batterli meglio che uso qua e li devo colpire in testa prima no aspetta forse in testa non li posso battere in testa no c'è una capra da qualche parte che è la è rischiaro aspetta qua c'era qualche cosa no questo è un demone che poi vedremo più avanti qui è morto cosa sta succedendo i corvi ce ne avranno da qualche parte spunta questo questo è camorroso perchè lancia cos'è ce n'è un altro io lo lo blocco ora ecco ce ne sono vi piace mangiate vediamo qua mi sembra c'è qualche cosa che porta le munizioni la poi ci andrò c'è sempre il corso che parla allora passiamo di qua allora intanto dovrei andare qua ma ci vuole un occhio questa è una qua però possiamo andare un pub si possono prendere i drink abbiamo tipo il sake caldo che è una bottiglia di piscina 30 hp oppure una cassa di sake che sono forse 4 che ne danno 25 o sono 5 no sono 5 beh compriamone e così aumentano ok siamo a posto per ora ora dobbiamo andare qua non ci possiamo andare perchè ci vuole la fragola qua la fragola è lì è lì l'occhio vuol dire che dobbiamo trovare una delle due intanto questo è un altro tipo questo è un altro tipo qua già mi ha lasciato un occhio è che ho finito le munizioni qua ci sono le gemme rosse che servono per potenziare gli attributi allora potenziamoli questa è la schermata di potenziamento di upgrade avremo i potenziamenti delle varie armi per orarci soltanto il boner e il monocuzzore poi il colpo di luce quello che sparo per rischiare la luce la torcia e la salute intanto li metto tutti in salute che è la cosa che all'inizio serve di più e ho la salute aumentata ok ora ho preso un occhio e l'occhio lo devo mettere qua prendo la fragola intanto prendo tutto ora posso andare posso andare a mettere la fragola qua qua c'era la mano che mi voleva prendere ma quel cazzo che mi faccio prendere e qua c'è sempre il corridoio di luce che prendendo il cuore si può aumentare la durata del della permanenza lì che è quella barra che spunta o fa là c'era un qualche cosa ma non ce la faccio comunque usciamo in alcuni di questi corridoi di oscurità si trovano pure le gemme rosse ma si sono buone però c'è un trucchetto poi per averle lo stesso anche se non si prendono tutte vediamo allora siamo in questa zona intanto vedo un po' qua vorrei un po' di di munizioni per monocuzione ma sono poche quelle che ho per ora qua c'è una cosa di sa che è qua si c'è poi ci sono questi barili che se li fa esplodere o i demoni fanno un casino poi ci sono pure questi cartelli e ci sono i commenti pure di johnson nonostante anche insieme che sono abbastanza allora qua abbiamo preso tutto il mondo ci sono questi questo è un interruttore da da premere situazione faccio un cervello faccio l'oscurità ora entrando nella parte dell'oscurità quell'interruttore si può si può rompere e qui entriamo di qua qua c'è niente no qua c'è di nuovo l'oscurità entriamo qua c'è ancora una cosa per comprare qua c'è un cervello qua c'è una stanza una bella gemma ora si deve tornare indietro perchè abbiamo preso il cervello il cervello dove mandarlo a mettere questo è il punto in cui si riesce a trovare un cristallo c'è una specie di trucchetto scusate sto rumore del cavolo ma devono trivellare ora prima l'errore oscurità guardate esplode tutto l'errore oscurità l'errore oscurità l'errore prima prima gli devo levare l'oscurità se no non gli faccio niente uffa e si apre la porta qua c'è un bel po' di cose a me faccio esplodere c'è il miglioramento e io miglioro la salute c'è salvataggio mi sembra che si può salire ma non mi ricordo dove devo andare se salgo si può scendere qua c'è questo e questo e questo questo non l'ho distrutto fa sempre comodo un po' di alcol no mi sembra che non si sale più no aspetta scendiamo in buonanotte scendiamo in buonanotte qua c'è una gemmona cosa c'è? ha una testa che cadono ma qua c'è un'altra cosa no? allora hanno finito di cadere queste teste che noi e qua c'è un altro cartello i manifesti elettorali di Fleming di Fleming come uno cos'è? forse un qualcuno ha letto da popolo allora Allora, saliamo questa scala e succede qualche cosa, ma c'è niente da prendere, non credo. Qua non c'è niente, oscurità, oscurità che arriva, perché i cadaveri poi con l'oscurità rilasciano queste alcune cose. Alcol, sfregola, qua c'è pure qualche cosa. Sì, sono un sacco di oggetti in questo gioco, tra munizioni, quindi, magari. Allora, alcol, alcol, chi è che mangia? Ah, la capra. Qua c'è un altro che ti dice che normalmente con la luce, tipo, il demone è rinchiuso nel corpo, ma quando non c'è il corpo, il demone esce. Entriamo nell'oscurità. Qua non c'è niente da prendere. Ah, qua c'è, vedrete, una tipo dei boss, fissata un po' per il canto, sì, per la musica. Questa tipo serve di introduzione per poi farci combattere con qualche boss, il primo, perché vediamo pure un'arena bella grande, lei, poi, la ritroveremo più avanti diverse volte. è forte come fa, perché il tipo fa tipo come una sirena e fa un canto al magliatore. ecco, ecco, ecco che sta richiamando questo demone. Eh, vedremo, allora, intanto. Allora, prima vi devo tirare il colpo di luce, cioè, e poi sparagli nella quarta. E' schivato, sono importanti. Vieni. Anche se questo si ispira a Resident Evil, in Resident Evil non c'erano le schivate. E' questo. E' dai. E' che ci sono sti pali. Finito. E lui spiega quello che succede. Prendiamoci un po' di munizioni. Qua sta crollando tutto. E noi che dobbiamo fare? scappare. Mi sembra che con questo si conclude il primo livello. E' il lato 2-1. Vediamo se non mi sbaglio. Mi sembra che senti un po' di munizioni. ma perché i demoni like di strada? non lo sai? sono frutta di demoni idea di un gioco pratico sul mondo del vivere sono fatti di scuole è vero non è la parte di questo pensi che il pop per cerri era solo una figura di spese sono cose che solo su dei 51 non poteva pensare ora qui ci saranno c'è uno più grosso che questo è un figlio è un figlio molto importante un figlio qualcosa di così Fleming ha dato il suo amore speciale le persone che hanno scoperto il mondo vivono in stile quindi non tutti i demoni sono fatti oh, tutti sono fatti i vip sono solo fatti piccoli perciò qui e qui come hanno bisogno di mantenere i genitori vediamo ora no, c'è sempre quello bene bene come sei morto prendetevi questo e esplodete tutti e andate a fanculo un po' uso pure questo non so se ce ne sono altri ma non penso prendiamoci il solito alcol che non fa mai male in questo gioco perché per il resto bevete responsabilmente e non vi mettete alla guida adesso abbiamo salvato che mondo pazzo non pelli che non finiscono mai che non finiscono mai no 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 ah per entrare la devo quella mano richiama l'oscurità non ricordo dove si ci va almeno qua sono un po' in salto ecco l'è la stront posso dire la intanto crepa c'era una qualche alta e i pelli però il solito coffee intanto beviti un po' di tequila ora possiamo darti il cervello là c'è l'occhio allora qua c'è l'occhio qua c'è il cervello qua prendiamo intanto uso la mano e gli levo l'oscurità e qua c'è quello ormai non mi serve più l'occhio questo non mi serve a niente che bottiglia mi fanno comodo e così apre la porta e finisce il l'atto 2-1 si e finisce così l'atto 2-1 questa salvando ho sbloccato pure il tropeo e questa era portami all'inferno nel prossimo video vi farò vedere l'atto 2-2 a presto ciao ciao